benvenuti su questo canale con un pack opening da circa non lo so non sono indeciso se aprire 5 pacchetti o 10 pacchetti da 25.000 crediti 12 giocatori 10 euro di cui sicuro 3 rari almeno 10 euro e dunque ragazzi questa volta è in live fate il tifo per me perché dopo lo scorso pacco opening così è la vita andiamo subito in live da cazzo che qui ci esce qualcuno gira la palla gira gira la palla gira gira la palla gira 85 cross porca miseria quanto vai lento caro mio chicao chi interessante paletta fortissimo paletta c doni cross finisci nel club altro pack 25.000 crediti on board e vediamo se in questa occasione scriviamo adesso è il peccato guiro assomigliava da guiro visto magister city ho pensato da guiro ma non è andato bene non è andato bene altro pack credo proprio di aprirmi 5 perché cazzo non è uscito niente solo cross interessante poi e vediamo se qui esce il super player il poca puttana di merda ferdinand addirittura questo tocco cardoso male che merda che merda altro pack 25 mila crediti dai cazzo che c'è un bel timo duic con un benzema che costa un bel po dai cazzo almeno un if non dico niente di più 86 miller poteva essere un altro però tantasimi un interessante però niente di così costoso poteva essere un 86 aghiero quello sì quello sì dai che forse questo è l'ultimo pacchetto forse dai dai vedi pacchetti che fa ben di ultime team fifa italia trova chi cazzo trova messi tutti aghi che cazzo trova mamma mia non trovo un cazzo di niente 80 fanculo muoviti che palle babbel podolski di nuovo mamma mia dai apriamoli tutti questi pacchetti ma fanculo e credisi dai cazzo dai cazzo dai 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 cazzo dai cazzo dai cazzo dai cazzo fanculo ma che palle penso però interessante interessante benz dai cazzo possiamo trovare qualcosa possiamo troviamo qualcosa saltiamo ma tu di martin è questo un cazzo in pratica un cazzo dai cazzo ultimi tre pacchetti fin ad ora è dato veramente una merda non guardo a questo giro non guardo se si muove però io aprirò gli occhi tra cinque quattro tre due uno vaffanculo ma buba di merda ma che sta ma che dai cazzo questo forse il penultimo che mi è rimasto a disposizione saltiamo perdandino c'è cazzo tutti del master street siti sto trovando tranne quello che voglio trovare o turi e io ho avvio che cazzo ne so il cazzo da l'ultimo pacchetto 25.000 peccoli buttati intanto avast purtroppo di coglioni buttati proprio al vento ma che cazzo ci vuol uscire sono non so non mi trovo che c'è qualcosa senti un buschezzo non sergioramos sergio buschez e la bruschetta deve andare da qualche altra parte il avula ma matri e il mitra matri ma niente particolare e dunque ragazzi il video termina qui questo pacco bling è come quello dell'altra volta una vera cacata pazzesca anzi per dire una merda e dunque ragazzi qui è jovispo vi saluto vi ringrazia e vi rimando ad un nuovo video ciao ragazzi